Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza situate a Pachino tra Via Nuova e Via Pellegrino Rossi sono schiaccianti e non lasciano alcuna ombra di dubbio. Mostrano infatti Salvatore Casella, 32 anni, disoccupato e con precedenti penali, con indosso un giubbotto nero e in mano una bottiglia di plastica al cui interno c'era presumibilmente del liquido infiammabile. In particolar modo a incastrare l'uomo è stato il video che lo immortala mentre si dirige verso un furgone Renault, probabilmente il solo obiettivo di Salvatore Casella in quanto primo mezzo a essere divorato alle fiamme. Fiamme che poi hanno rapidamente bruciato anche gli altri veicoli in sosta e le facciate delle palazzine vicine. Tutto ciò è avvenuto lo scorso 27 ottobre e a essere coinvolte sono state in totale otto auto. Adesso l'uomo ritenuto responsabile dell'incendio si trova al carcere di Cavadonna e nelle prossime ore dovrà essere ascoltato dal GIP al Palazzo di Giustizia di Siracusa. Al momento sul movente ci sono soltanto sospetti e tutto sembra ruotare attorno al proprietario del furgone, con gli inquirenti che stanno cercando di capire in che rapporti quest'ultimo fosse con l'indagato. Resta però anche da scoprire se il disoccupato fermato alle forze dell'ordine sia soltanto l'esecutore materiale di un piano architettato da qualcun altro.